Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Gira, scivola, cambi, arrivi a metà, fino in fondo, tutti in corsa, all'indietro, dai! Vai in stessa velocità con qualche cambio di direzione, sembra la stessa velocità. Perché vi ho sbagliato la linea? Ma no, ma ieri non veniva. No, 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 no. Gira, ogni tanto un attimo di rallentamento, poi riprendi. Grazie a tutti.